Val di Dentro in provincia di Sondrio ha ospitato la Alta Valtellina Bike Marathon. Marathon di 93 chilometri e 3.500 metri di dislivello. Presenti in griglia tutti i migliori atleti sulle lunghe distanze con i due campioni italiani Yuri Ragnoli e Maria Cristina Nisi. Partenza e subito salita verso i 2.000 metri dei laghi di Cancano e subito si forma un gruppo di tre atleti, Yuri Ragnoli, Daniele Mensi e Cristiano Salerno. Attorno al quarantesimo chilometro Daniele Mensi scivola, cade ed è costretto al ritiro lasciando via libera a Yuri Ragnoli che al Gran Premio della Montagna di Bocchette Trela transita da solo con un anticipo di 30 secondi su Samuele Porro e Fabian Rabeshteiner. Yuri Ragnoli gestisce la sua gara fino al traguardo andando a vincere la Alta Valtellina Bike Marathon con il tempo di 4 ore 3 minuti e 49 secondi. In seconda posizione chiude Samuele Porro, terzo Fabian Rabeshteiner. Nella prova femminile gara sempre al comando per Maria Cristina Nisi che va a vincere con il tempo di 5 ore 2 minuti e 15 secondi ed anticipa Mara Fumagalli che giunge seconda e Catazzina Sosna terza.